un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di sole voci sunday live abbiamo fatto un bel po di strada in questi ultimi mesi ogni domenica sera durante le nostre dirette vi abbiamo presentato un professionista diverso legato alla musica vocale sono scatturiti punti di vista molto interessanti sul coro sulla musica in generale e su diversi modi di fare musica corale dagli adulti bambini agli adolescenti passando dagli anziani e dalle situazioni di disagio abbiamo compreso come un coro può essere non solo performativo e professionale ma anche terapeutico ed umanamente importante per il bagaglio formativo culturale emozionale di ognuno di noi adesso vi presentiamo le perle di saggezza che sono immerse dalle nostre serate abbiamo pensato di proporvi un riassunto di ciò che i nostri ospiti ci hanno lasciato una restituzione delle considerazioni al nostro avviso più importanti che sono state fatte in queste dirette buona visione ho avuto lì la fortuna di avere a fianco maria grazia stessa e luca velletri che poi invece è stato il cardine che mi ha portato mi ha accompagnato per mano in tutte le produzioni successive e luca era appunto per me era rappresentava proprio il vocalist ed era impressionante perché lo mettevo allo stesso livello di uno strumentista che suonava la sua voce e quindi aveva quella preparazione quella conoscenza quella competenza e quella velocità che a un qualsiasi violinista quando gli si mette davanti una parte prendi vai suona questa parte qui la strapoleremo e la faremo girare in tutte le scuole di canto è un po' quella cosa là cioè effettivamente è proprio diciamo la me la cosa che mi ha sempre molto mi ha proprio fatto gola e vedere quella cosa lì ovvero è proprio intendere la voce come uno strumento con la stessa dignità degli altri strumenti e poi avere però le competenze per farla suonare a richiesta in situazioni ad alto rendimento come quelle lì perché effettivamente poi non c'è quella copertina che tutti i cantanti si fanno per cui assegna un allievo assegna un brano a lezione studiati questo e vabbè ma c'è solo una settimana ma come una settimana in una settimana si impaio si imparano 25 produzioni quindi insomma è stata un po' diciamo quella è stata la da lì mi sono proprio innamorato del mestiere parlando di gospel vi voglio raccontare un aneddoto perché nel 89 riuscì a convincere Zucchero ad andare a registrare Oro Incense Birra a Memphis e lui voleva un coro gospel per fare uno dei brani dell'album che si chiamava Overdose d'amore per avere il coro gospel Rufus dice ci penso io vi porto nella chiesa che frequentavo da piccolo nella quarta strada nel ghetto nero e c'era effettivamente un bel coro gospel del New Salem Baptist Church andammo a messa stiamo lì commossi perché effettivamente questa interazione tra ciò che succedeva sul pulpito e ciò che c'era tra il pubblico era incredibile sembrava il film dei blues brothers veramente poi niente combinammo con il coro però dopo due giorni Rufus Thomas venne in albergo dicendo guardate che la roba che voi chiedete che questi cantino non la canteranno mai perché cantare un brano che dice ho un diavolo in me questi non lo cantano e noi andammo veramente in crisi e tentammo di ritiegare ma Zucchero insisteva perché voleva quel testo a un certo punto Rufus disse non preoccupatevi perché ho trovato i vecchi artisti della Stagg da Jay Blackfoot, Ruby Wilson, Homer Banks, William Brown eccetera che sono disponibili a cantarlo e infatti se voi ascoltate Oro Incense Birra in questo brano Overdose d'Amore c'è questo coro gospel in un altro brano credo si chiami Mamma Dolcissima, quello del genere dove la chitarra oltretutto la fece Steve Ray Vaughan in seconda battuta ma l'originale l'ha fatto Eric Clapton poi Zucchero ha editato anche l'altro pezzo dove il coro è questo coro gospel costituito dai migliori nomi della Stax di Memphis parto da Sanremo perché ho avuto la possibilità di seguirlo professionalmente per il mio giornale in questi giorni ovviamente da remoto e per quanto riguarda il soul ho trovato in due casi proprio una forte influenza soul una l'abbiamo anche notata insieme a Graziano che era il forecast, il ragazzo delle nuove proposte ma sempre tra le nuove proposte c'era anche questo Davide Shorty che seguiva un altro aspetto del soul che era un po' il soul dell'Adaptor Records, questo new soul new yorkese insomma tutte e due estremamente interessanti quindi il soul comunque è un genere che influenza la musica italiana durante tra l'altro il festival, la serata delle cover è stata riproposta un'avventura di Lucio Battisti che i più, quelli meno giovani ricorderanno bene fu proprio Wilson Pickett a interpretare sul palco di Sanremo ma abbiamo parlato di Porretta Porretta appunto è questo spettacolare appuntamento che ogni anno ci vede come spettatori come comunicatori di supporto a Graziano che insomma tanto lo posso dire io Graziano a Porretta si viene perché si sentono cose che non si sentono da nessun'altra parte non solo in Italia né in Europa perché tutti quelli che vengono a Porretta soul vengono in esclusiva europea quindi è un appuntamento sicuramente da non perdere mi fa piacere che ci siano anche esperienze come quella di Varese che conosco in maniera insomma abbastanza costante anche negli anni con i contatti con Fausto che abbia deciso ancora di legarsi alla soul music l'aveva fatto con il blues qualche anno fa e quindi sarà una scommessa molto importante che Sole Voci dovrà affrontare in maniera molto seria proprio perché il soul è un genere musicale bellissimo e che va trattato con i guanti bianchi con le dovute maniere Cerchiamo certo di portare acqua al mulino della musica pop e della musica contemporanea come stava dicendo anche prima Gabriele Concentrarsi sull'espressione di questo momento perché fondamentalmente ho scoperto strada facendo che la musica non è mai nata classica quindi è diventata classica e questo vuol dire che tutti i più grandi compositori del passato sono stati contemporanei e sono stati magari non presi in considerazione da tutti coloro che si dedicavano esclusivamente al classico bisogna mantenere una grande apertura verso ogni genere perché altrimenti si perde una buona fetta dell'essere musicista oggi La diversità tra il professionista e l'amatore è molto labile perché a me è capitato nella mia esperienza lo dico proprio sinceramente se non si offenda nessuno però di incontrare degli amatori con una curiosità talmente fervida che riuscivano ad andare incontro a delle difficoltà enormi magari non sapevano neanche leggere la musica ma chi se ne prega impari a memoria invece dall'altra parte dei professionisti quindi cantanti formati con una tecnica solida che però non riuscivano tanto ad entrare proprio perché gli manca quell'elasticità e quella voglia e curiosità di misurarsi con cose nuove quindi nei miei cori in questi cori ho sempre raccolto persone molto diverse sia di età che di estrazione culturale eccetera il tema, il fattore, il minimo comune multiplo è sempre stato la curiosità che l'improvvisazione collettiva è qualcosa di benefico che farebbe bene a chiunque è molto più la portata di tutti e io è lì che mi rivolgo agli aspetti benefici del canto improvvisato insieme in cui certo dovevi imparare da alcune regole imparare ad ascoltare, a rispettarsi però è davvero qualcosa di antico come l'uomo 600.000 anni fa l'uomo delle caverne è molto probabile che improvvisava e cantava attorno al fuoco anche la cosa unificante dell'improvvisazione ci sono tanti stili ovviamente però quello che propongo io e che propongono tanti altri miei colleghi è quello di usare la voce come strumento cosa vuol dire usare la voce come strumento? di non usare i linguaggi in pratica è un linguaggio universale il famoso esperanto è la musica è chiaro quindi questo permette di abbattere un sacco di frontiere linguistiche anche religiose e questo permette davvero di incontrarsi per strada con persone di diversa etnia e di condividere la stessa gioia del canto quindi vedete che ha veramente degli aspetti benefici e pacifici improvvisazione che dovrebbe essere proprio inserita nel recovery plan come attività sociale per il sostegno della gioia di essere insieme agli altri appartenere a un coro gospel e cantare in un coro gospel non significa necessariamente può significare trovare una risposta a queste domande di senso però secondo me il coro gospel è un luogo privilegiato in cui si possono accompagnare le persone nella propria ricerca di un senso dell'esistenza e secondo me questo rende il coro gospel un luogo affascinantissimo importantissimo e anche molto moderno nella sua laicità vogliamo dipingere una lezione tipo si entra nell'aula di musica e si toglie il rumore siamo siete bambini di prima elementare si entra nell'aula di musica e si toglie il rumore il rumore che è entrato dentro di noi il rumore della strada le macchine lo togliamo dalle orecchie togliamo dalla bocca il rumore che potremmo fare noi non possiamo più fare dal corpo perché il rumore è qualcosa che ci stanca molto e quando abbiamo tolto tutto il rumore fra le mani avremo il silenzio e nel silenzio mettiamo la musica non è una lezione ma è l'opportunità è lo spazio in cui far crescere i bambini attraverso la musica noi diciamo educhiamo voce del verbo educere cioè tirar fuori da l'insegnante educa prima di tutto e cosa fa? un'attività maieutica Socrate ci aveva visto giusto cioè ognuno di noi nasce con uno scrigno chiuso dentro cui è chiusa la propria musicalità l'insegnante di musica cosa fa? lo apre quindi fa un lavoro di fuoriuscita di questa musicalità nutrendolo dall'esterno attraverso questo il bambino cresce e poi non farà più a meno della musica perché sarà la sua stessa essenza quindi non è la lezione di musica è l'opportunità in quel momento di essere e diventare persona attraverso la musica e proprio tutti noi musicisti, insegnanti dobbiamo rimboccarci le maniche andare in tutte le scuole e offrire questo di diritto a tutti i bambini sul gruppo classe perché già l'attività extracurricolare e già vuol dire che un bambino dice ah sì questa cosa mi piace la vado a fare ma vuol dire che l'ho già conosciuta oppure non so la mamma lo prende da scuola siccome è impegnata lo mette un'ora a coro ecco è già un'altra cosa no deve essere fatto nel gruppo classe che è un gruppo su cui si lavora anche come dinamica quindi non è solo il singolo individuo ma si lavora sul gruppo con tutti gli effetti della relazione della socialità e di un gruppo che vive magari 8 ore al giorno per 5 anni tutti i giorni insieme ecco è straordinario quello che può succedere ma addirittura non solo all'interno delle relazioni ma proprio nel come singolarmente i bambini possono trasformarsi bambini che magari a scuola hanno delle problematiche assurde a musica non ce l'hanno cioè a musica si trasfigurano ecco doniamo allora la possibilità di riconoscersi in qualche cosa che darà poi loro la forza anche di crescere attraverso altre problematiche magari personali questo è il mio sogno ecco se devo dire che sogno hai? ecco che tutti i musicisti entrino nelle scuole bussino alle scuole dicono vengo io vengo io oppure anche parallelamente la formazione alle maestre perché sarebbe bello che le maestre facessero vivere musicalmente la scuola di cosa significa? non vuol dire fare musica tutto il giorno ma avere uno stile musicale per me il coro è uno stile di vita e la musica per me è l'essenza cioè tante volte si dice appunto fare musica io dico essere musica questo fare l'essere devono coincidere almeno per me coincidono e quindi il coro è l'articolazione di questo essere sì l'articolazione è lo stile di vita del mio essere musica ecco e pensiamo che il coro sia un po' questo nel senso sia una serie appunto una serie di elementi una serie di corde cercheremo risuonare per avere diciamo un effetto eufonico per diciamo essere l'espressione più bella l'espressione più bella che lo strumento può dare e quindi questo è sicuramente il significato per noi di coro sia dal punto di vista musicale che sociale suoniamo insieme della musica come suoniamo insieme anche tra noi come gruppo come piccola società in qualche modo e diciamo il nostro focus è quello essere uniti e consonanti sia nella musica sia nella società e solo con questa unione può venire fuori quello che veramente è un coro appunto coniugando questi due lati umano e musicale io ho la sensazione che è quella che un po' provo io da corista prima ancora che da direttore che il coro diventi una sorta di seconda casa seconda famiglia passatemi il termine branco inteso come branco di lupi che si organizza per star meglio insieme e questo è un brivido che si prova dal punto di vista umano grazie alla musica nella musica grazie all'umanità non saprei bene come definirlo però sentirsi parte di un qualcosa di ficciotto di forte cioè di grosso ma anche di forte crea un legame affettivo molto forte che spero che i ragazzi poi cerchino per tutta la vita a prescindere da me a prescindere da dove hanno cominciato però sono forme preziose di aggregazione umana era importante nel coro non tanto arrivare a una super performance perfetta ma accettarsi, condividere, ascoltarsi, emozionarsi caratteristiche poi di tutti i cori perché in tutti i cori che siano con disabilità o senza disabilità le cose belle sono non tanto se il brano che hai arrangiato è venuto perfettamente con tutte le dinamiche con tutte le voci giuste l'intonazione, il ritmo ma la cosa importante è se in palco ti viene da piangere perché ti sei emozionato se hai capito che qualcuno era in difficoltà e l'hai aiutato se ti sei proprio ascoltato e sei stato in armonia questa è la cosa importante di tutti i cori ci vuole impegno assolutamente uno non può pensare di venire lì a cantare solo per divertirsi ci si diverte un casino ma non deve essere solo quello ci deve essere un lavoro di fondo dietro un po' di impegno un ascolto a casa un po' di ripasso insomma è un c'è sempre un motivo se uno sale in un palco e porta qualcosa vuol dire che ha il suo bagaglio di competenze che ha sviluppato con impegno con fatica con attenzione quindi anche nel coro degli stonati nella vita bisogna assolutamente cantare in coro perché è una roba pazzesca meravigliosa allora cantare in coro lo diranno tutti però è proprio così cantare in coro è famiglia il coro è famiglia assolutamente per cui è uno scambio di relazioni è un aiuto è una condivisione è questo il coro è una dimensione che dovrebbe essere obbligatoria in uno stato democratico perché il coro ha una funzione fondamentale che è quella di farti capire che la tua voce singola correlata a quella degli altri e già c'è un concetto che dal mio punto di vista si è perso da quando hanno abolito il servizio militare no in relazione agli altri tu diventi più forte la tua voce è più forte insieme a quella degli altri e questa cosa qui è un insegnamento fondamentale cioè tu non perdi la tua unicità perché tu hai quella voce lì quindi sei unico e irripetibile ma insieme agli altri acquisisci forza questa è la cosa potente del coro una domanda è ma i coristi non credenti si sono messi in gioco comunque con i test in italiano? secondo me se non c'è giudizio si può fare tutto il primo che giudica sei sempre tu no? te stesso e lì c'è un bel scalino da fare un bel lavoro diciamo interiore poi c'è il direttore il direttore che ti guarda in un modo in un altro e vedi le difficoltà che ci sono allora qui si va in un campo che potrei definirlo il campo dell'autenticità tu che canti my life is in your hands in inglese sei tu che canti chi è che canta? fatti questa domanda tu che canti la mia vita nelle tue mani chi è che canta la mia vita nelle tue mani? sei sempre tu che canti quello di prima di my life is in your hands a un'altra persona quindi non è una domanda è una bellissima domanda che la giriamo tutti i coristi che andranno incontro a questo a questo dilemma in ogni coro c'è un tempo da investire su su svariate e svariati aspetti tecnici però il primo tempo da investire è su capire cosa stai facendo e sul chiedere il 100% al corista delle sue possibilità però facendolo vivere bene quel momento non obbligandolo a fare delle cose che sono al di sopra delle sue possibilità in quel caso devo intervenire per dare a lui lei la possibilità di cantare lo stesso magari togliendo delle note magari spostandolo di sezione parlandogli parlandole però non deve vivere questa cosa in modo sbagliato perché altrimenti tutto questo esce dagli occhi prima che dalla voce e chi è davanti a te quindi il tuo direttore o i tuoi compagni se cantate magari in semicerto vedono che tu stai in qualche modo soffrendo e non stai portando il messaggio con pienezza il messaggio che arriva dai brani gospel e tu dici ma com'è che è emozione in questo modo com'è che quando sento questo suono questo modo di cantare com'è che mi arriva il cuore com'è che mi muove questa cosa allora dobbiamo pensare al fatto che siamo tutti uno e siamo tutti legati ok e quindi c'è un collegamento diciamo animico un collegamento spirituale per il quale il tuo cuore la tua anima entra in vibrazione con questo gospel poi in più c'è la preghiera quindi se il direttore è bravo o chi per lui nel palco va a tradurre il testo della canzone che il coro sta per proporre perché in un'altra lingua ti aiuta ad entrare con la parte alta quella della mente il pensiero nella parte razionale però dopo devi lasciare quella parte devi lasciare spazio a un'altra parte di te che si mette in ascolto della vibrazione e del suono che ti arriva ascoltando il brano noi nasciamo con quell'elemento sonoro che è fondamentale cioè conosciamo il mondo attraverso il suono ok il primo elemento è il battito cardiaco di nostra mamma se la mamma è agitata anche noi siamo agitati se la mamma è tranquilla anche noi siamo tranquilli quindi questo elemento ritmico determinerà poi tutto un approccio che noi avremo all'esterno sulla ritmica quando i ritmi sono veloci tendiamo a muoverci e quindi anche da buddista corporeo a fare delle cose quando il ritmo tranquillo ci rilassiamo come dire non è qualcosa estraneo da noi siamo noi che attraverso il canto esprimiamo quello che siamo quindi è importantissimo senza il canto queste emozioni questi elementi non ne uscirebbero quindi è chiaro e logico che nel momento stesso in cui individuiamo questa forza questa potenza è inevitabile che in qualche modo la utilizziamo per un piano terapeutico un piano educativo perché è una forza notevole ma la musica piace a tutti perché fa parte di noi quindi attraverso questo il percorso una volta che troviamo il canale giusto con persone con disabilità con anziani con chiunque attraverso questo canale noi possiamo passare non solo l'aspetto emotivo ma tutte quelle grandi possibilità che la musica e il canto in questo senso ci da educativo terapeutico di formazione per questo che dico è importante capire che questa roba è estremamente preziosa e con una certa attenzione possiamo fare degli interventi che modificano uno stato o portano una situazione di benessere forte se noi abbiamo bisogno degli altri per veicolare queste emozioni cioè quando abbiamo bisogno di dire a qualcuno ti voglio bene cioè dobbiamo averlo davanti insomma l'elemento corale d'insieme l'abbiamo visto noi negli interventi che abbiamo fatto a livello di musicoterapia sia con gruppi di persone con disabilità sia con bambini sia con con anziani abbiamo un coro di anziani in fondazione che certo il nostro obiettivo primario non è non è quello di avere un prodotto da concerto da sala quanto quello di condividere questo momento questo momento di condivisione permette intanto e soprattutto in alcune patologie io penso all'Alzheimer di veicolare delle cose importantissime la prima l'appartenere a qualcosa appartenere a qualcuno a un gruppo il condividere un'esperienza emotiva forte che ti permette comunque di produrre qualcosa di bello e in un secondo luogo che è importantissimo soprattutto dove c'è una patologia come l'Alzheimer narrare qualcosa e in questo senso il testo è un elemento fondamentale permetterà qualcosa che vada nell'ordine della memoria piuttosto di un elemento che aiuta a non perdere quella parte che è ancora attiva che ti permette di collegare tutta una serie di azioni attraverso delle immagini che il testo trasmette quindi per noi cantare in questo senso significa avere sì il risultato finale come un elemento che può essere utile ma sicuramente andare a capire nel soggetto dove sono le problematiche e cercare all'interno di un gruppo qualcosa che fa piacevolmente insieme agli altri che cosa questa persona ha bisogno la gente dice l'arte si va beh si va beh è un cavolo noi viviamo di quella cioè se no non andiamo al cinema perché andiamo al cinema perché andiamo al teatro perché sentiamo le canzoni chi non le sente perché questa cosa qua ci fa vivi ci fa rendere vivi questa cosa qua veramente ci dà quella benzina quel vestito da festa che dice il problema della musicoterapia in sé non è nient'altro secondo me che individuare all'interno di un'equipa medico educativa le difficoltà di un bambino di un ragazzo di un anziano e utilizzare la musica per questo tipo di problema che lui ha perché con la musica si possono affrontare diversi percorsi quindi se questa persona ha un problema a stare in mezzo agli altri trovermo il modo di fare l'esperienza corale se ha un problema psicomotorio facciamo in modo che attraverso gli strumenti o il microfono stesso sia stimolato a fare questo ecco è quella roba lì per me cioè nel senso sapere che la musica è un facilitatore ed è forte come elemento e quindi rispetto alla problematica che c'è far incontrare qualcosa che sono sicuro che gli piacerà magari non sarà la musica che piace a me magari sarà la musica che piacerà a lui va benissimo possiamo lavorare sulle canzoni dei bambini possiamo lavorare sull'iscio possiamo lavorare su qualsiasi cosa però so che sicuramente l'attenzione da parte di questa persona sarà forte la motivazione sarà forte perché quella cosa gli piace il cantare insieme è un pochino come portare ai massimi termini quella relazione che avevamo con la nostra mamma o il nostro papà o comunque quando eravamo piccolissimi quindi veramente scatena delle attività organiche nel nostro corpo quindi io sono uno di quei neuroscienziati che sottolineano il fatto che il cervello da solo non fa niente il cervello è embodied si dice cioè è incarnato ha bisogno del corpo e nel momento in cui io sono un vostro come dire fan senza dubbio da musicista presentissimo cavolo nel cantare gospel in particolare se ne vedono di tutti i colori una cosa per me chiarissima è vedere come si esce dai concerti corali normalmente senza nulla togliere agli altri generi per l'amor di Dio però nel momento in cui si guarda la gente che esce da un concerto gospel li si vedono profondamente emozionati nel momento in cui escono da un concerto di musica classica in stile severo come si dice anche sono evidentemente comunque tutti riempiti mi viene da dire stimolati ma con quel contegno che a volte magari lasciamoci andare un po' di più ecco quindi il canto gospel per me è il coro gospel la volta in cui ho suonato tanto musica gospel americana il giorno in cui insieme a Daniela mia moglie siamo andati a New York ovviamente siamo andati a ascoltare in Brooklyn Tabernacle Choir ma è stata una messa un concerto strepitoso cioè io ancora adesso a pensarci mi viene la pelle d'oca insomma quello che è interessante fatta questa parentesi insomma pro gospel quello che è interessante è quindi procedere su questa soluzione del canto corale e tanto va fatto secondo me anche con urgenza soprattutto in questi periodi in cui le RSA insomma sono così travolte sono state così travolte da tutte le difficoltà legate a questo virus e beh la bisogna rianimare la tabbiologica è quella che ha senso e per mantenere vitale il nostro organismo ma è fondamentale muovere il corpo noi per millenni ci siamo mossi abbiamo fatto chilometri e chilometri tutti i giorni perché negli ultimi 60 anni abbiamo smesso di farlo qualunque approccio medicale va a sottolineare questo aspetto il movimento aggiungo che la pratica musicale è fare musica è anche una forma di meditazione quindi ci si conosce meglio nel fare musica e certo la pratica deve essere quotidiana questo non per forza perché poi anche lì altro difetto della nostra società è devo studiare perché devo preparare la parte ma anche no cioè lasciamo stare il fatto che ci siano delle scadenze ma facciamolo per pura passione perché quella è la cosa che conta che le la le 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 Grazie a tutti.